L'emergenza coronavirus ha fermato anche le celebrazioni per il 168esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Questa mattina, presso la caserma Paola di Macerata, soltanto alla presenza del prefetto Yolanda Rolli e del questore Antonio Pignataro, si è tenuta una semplice deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato ai caduti della Polizia di Stato. Il questore Pignataro ha dichiarato, in questo delicato momento che sta attraversando il nostro amatissimo Paese, noi uomini e donne della Polizia di Stato saremo sempre vicini ai cittadini. Che questa celebrazione che noi poliziotti dedichiamo a tutti i medici e al personale sanitario della provincia di Macerata, con la nostra solidarietà che dimostriamo ogni giorno, siano gocce d'acqua che servano a riempire il senso di legalità che anella in ciascuno di noi, per rinsaldare quei valori fondanti su cui si basa la nostra società e che sia la salute dell'uomo al centro del mondo e non il profitto. Il questore ha sottolineato anche l'impegno straordinario delle forze di polizia che in questo periodo sono chiamate a vigilare sull'osservanza delle misure di contenimento dell'epidemia, oltre che a svolgere la costante attività per il mantenimento della legalità in provincia. Tanti sono stati gesti di apprezzamento da parte della comunità nei confronti del lavoro svolto della Polizia di Stato, alla quale arrivano quotidianamente messaggi di solidarietà e di incoraggiamento.